buonasera a tutti l'artista esistenzialista stasera body painting rosa abbiamo lavorato con anche alcuni tra l'altro otto matita matitona anche dei glitterati perché vedete un pochettino la lucentezza quindi viola bianco e quindi questo è pochettino quindi un verde smeraldo la parte centrale un verde un pochettino più bottiglia sulle foglie un pochettino lanciolate ramificate e quindi vari tipi un violaceo sull'esterno e quant'altro l'artista esistenzialista buonasera